Masci, le periferie sempre più al centro della città, va anche in quest'ottica l'apertura della seconda parte della strada Pendolo qui a Pescara? Diciamo che noi siamo attenti a tutte le realtà cittadine, le periferie ovviamente oggi hanno la possibilità di questa nuova strada, che è la strada Pendolo attesa da decenni e decenni perché già dal piano regolatore di Piccinato del 57 c'era una traccia di una strada che costeggiasse la città e che collegasse i punti più importanti. Oggi noi la realizziamo perché siamo andati dritti verso la nostra strada, abbiamo espropriato i terreni che dovevano essere espropriati senza nessun timore, abbiamo realizzato in tempi brevissimi questa importantissima arteria che è collegata a quell'altra sulla Tiburtina che abbiamo inaugurato qualche settimana fa e a quell'altra ancora che inaugureremo a settembre che costeggia la Pineta, avremo un'asse che da Francavilla arriva all'ospedale senza passare in mezzo alla città in pochissimi minuti. Questo è il tassello straordinario che si aggiunge a quello che abbiamo inaugurato poche settimane fa, ha una valenza urbanistica perché siamo all'interno di un piano particolareggiato, il numero 7, e quindi interventi di questo genere stimoleranno anche la crescita, lo sviluppo urbanistico, lo sviluppo economico della città. Ma la valenza è soprattutto sociale perché quando abbiamo a disposizione quella che io definisco una circonvallazione interna che consente di unire il centro e le periferie abbiamo praticamente obliterato, cancellato il concetto di periferia e quindi lo possono testimoniare anche le comunità che vivono qui che avranno la possibilità in pochissimi minuti e viceversa di poter raggiungere il centro città e il centro città può raggiungere queste belle zone in pochi istanti. Tengo a precisare non soltanto con le automobili ma anche con una mobilità alternativa perché tutte queste infrastrutture sono dotate di piste ciclabili e quindi di un sistema, di una rete di mobilità alternativa che consente anche di scegliere quindi un mezzo diverso rispetto all'automobile.